È stato possibile ricostruire la dinamica di una serie di furti avvenuti nell'ultimo periodo dei quali si era resa responsabile questa donna, una 47enne originaria del napoletano che approfittando delle condizioni di tranquillità che gli derivavano dal fatto di poter andare a sistemare e rassettare le varie camere ai piani, approfittando dell'assenza dei legittimi proprietari andavano a rivistare in maniera sistematica all'interno dei capi di abbigliamento piuttosto che delle borse o dei portafogli. Una immediata segnalazione arrivata da una delle vittime che aveva nasato che ci potesse essere qualcosa di anomalo ci ha permesso di intervenire e in maniera opportuna riuscire a dimostrare in flagranza di reato che la stessa effettivamente proseguiva in questa condotta anche nei giorni successivi. Di fatto poi è stato possibile arrestarla in flagranza con l'accusa di furto aggravato.